Buon pomeriggio dallo stadio Buon Riposo di Pozzi per l'undicesima giornata del girone E della Serie D tra il Seravezza e lo Sporting Trestina. Nell'uno contro uno e la catena di sinistra sicuramente quella più funzionante. Bella palla per Benedetti, Benedetti! Subito innescato. All'empo di Anderazzoli e Rudy Garzia rischia fuori. Tanto Brugognone, largo. Peccato a conclusione. Intanto Bedini e Puzzolo sulla palla. La rincorsa di Puzzolo, Benedetti è andato via. Puzzolo, calcio! E la parata plastica di Fiorenza. Di Camarlinghi che a mio onesto parere era abbastanza evidente perché era in ritardo l'intervento su di lui. Attenzione, qua Camarlinghi col sinistro la svirgola, la prende male. Questa partita che appunto sembrava essere partita. Che si accentra, Mugelli, palla in mezzo. Puzzolo cerca di addomesticarla. E girarla per Benedetti che va giù. Caccia di rigore! Si allunga la maglia di Benedetti nel contatto con Contucci. Gran palla di Puzzolo sopra e anche giallo per il numero 5 Contucci. Rigore per il Seravezza sta per battere. Lorenzo Benedetti dal dischetto e la sbaglia! E plana sulla partita l'aereo planino killer! È il gol numero 78 per lui in 141 presenze totali col Seravezza. Non qualcuno si appoggia ma Cabruri si appoggia anche sul piccolo. Palla in area, Tascini la gira in acrobazia. Palla fuori dopo la spizzata proprio del giocatore che aveva procurato il rigore con Tucci che è stato anche ammunito. Comunque torniamo a questa partita. Il corner in mezzo del Trestina. Palla Tascini ancora lui palla alta in acrobazia con la maglia quasi in mezzo. Doppio passo Brugognone, Brugognone ci accentra. Brugognone, Brugognone con la punta del piede! Giocata da calcetto e parata di Fiorenza. Nella lotta sempre dentro la battaglia. Medini per Benedetti sfida con Sensi. Benedetti mette il corpo avanti. Sembrava in ritardo invece Benedetti. Benedetti! Col sinistro fuori, ma che bella giocata. Piabbedini, Mannuccio è fuori posizione. Attenzione! Belli, calcia alto con deviazione decisiva di Vani. Quinto corner per il Trestina. Chiamano un fallo. Intanto ancora una volta prova una zampata. Il Trestina lì in area. E la punizione del Trestina fa tutta dentro. Belli di sponda, Tascini! Mannucci è ancora buona. E gol! Incredibile! Gramaccia! Ha segnato Gramaccia! Il capitano storico del Trestina! Tipice fischio, non so se posso fare fino al termine. Colinca, attenzione! Benedetti, Benedetti, gol! Gol! Geravezza, gol! Lorenzo! Benedetti! La rompia le Rochille! Ancora lui! Sempre lui! E Geravezza avanti! Due a uno! A noventaseiesimo! Regione, stavolta, trova il cartello stop con Mannucci. È finita! È finita! Pizzeralezza ha vinto due a uno! E dunque torna a vincere al buon riposo con la doppietta del suo bomber. Lorenzo Benedetti finisce qua. Grazie! 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 Grazie!